La più grande onorificenza del Centro Sportivo Italiano, ovvero di Scobolo d'Oro, è stato quest'anno assegnato al Presidente del Comitato Territoriale Acqua e Alessandria, Carmen Lupo. La cerimonia si è svolta nell'Aula Consigliare di Palazzo Levi e la presenza del Presidente Nazionale CSI Vittorio Boso e di numerose autorità. La storia acquese ti ha visto protagonista? Sì, penso di sì, però ho avuto anche dei buoni maestri e quindi ringrazio loro per avermi dato questa opportunità. Oggi hai commosso un po' tutti perché era il compleanno di tua mamma e hai ricevuto oggi questo bel premio. Grazie, grazie mille. Sarà contenta anche lei. Quanto è importante avere persone come Carmen all'interno del CSI? Le persone come Carmen sono tutto nel CSI perché è attraverso le persone come Carmen che il CSI compie le sue opere. Se non ci fossero persone che si dedicano al bene degli altri come ha fatto Carmen in questi anni, non esisterebbe il CSI. Pertanto alle persone così dobbiamo veramente un grosso grazie. Un importante impegno è quello del CSI a livello sportivo ed educativo. Il discorso d'oro dal 1994, anno del cinquantesimo di fondazione dell'associazione, è stato assegnato fino al 2001 in triplice forma, ovvero con oro, argento e bronzo, a società o soci con 40, 30, 20 anni di impegno. Dal 2001 viene assegnato individualmente a persone o società con un minimo di 30 anni di attività. Dopo la cerimonia di premiazione a Palazzo Levi è seguita la Santa Messa presso la chiesa di Cristo Vedentore.